un gol pazzesco amici di Sport Italia ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Handball Mania quinto appuntamento stagionale ospite di questo numero Patrizio Pacifico, tecnico del Flavioni Civitavecchia grazie mister, grazie per aver accolto il nostro invito in postazione touch come sempre Matteo Aldamonte, ciao Matteo e allora, preso il via il massimo campionato femminile di palla a mano in assi di partenza 12 squadre, c'è grande lotta soprattutto per tentare di insidiare il dominio esercitato nella passata stagione da Salerno e Conversano prima giornata già andata agli archivi campionese d'Italia della Iomini di Salerno che esordivano proprio sul campo del Flavioni Civitavecchia vediamo il servizio e poi ne parliamo con coach pacifico troppo Salerno per il Flavioni pronostici rispettati fra laziali e campane nel programma della giornata inaugurale del campionato di Serie A1 femminile la contesa finisce 35-16 per Salerno prestazione autorevole per la squadra del neotecnico croato Ruppets che inizia nel migliore dei modi una stagione in cui l'obiettivo è senza nascondersi quello di confermarsi sul tetto d'Italia dopo lo scudetto della passata stagione non sono i due punti persi contro Salerno sul versante opposto ad abbattere Flavioni e il tecnico Patrizio Pacifico l'obiettivo dichiarato è quello della salvezza in una rincorsa lunghissima da affrontare senza la mancina Alexandra Ravats in dolce attesa e perciò fuori causa per quest'anno ma con l'innesto ritardato solo per questioni burocratiche della forte portoricana Scila Eraldo messo da parte il debutto Salerno e Flavioni pensano alla seconda giornata sabato prossimo campane al debutto casalingo contro Teramo mentre le laziali vanno a caccia della prima soddisfazione stagionale in casa della casa al grande Padano servizio firmato da Sabrina Alessio allora Coccio insomma non era questa probabilmente la partita giusta per saggiare le possibilità del Flavioni esatto esatto sicuramente noi facciamo un campionato con obiettivi diversi rispetto a quelli di Salerno questo non significa che non avessimo preparato la partita per cercare di fare del nostro meglio è anche vero che non mi piace parlare di assenti ma abbiamo alcuni assenti adesso attualmente in formazione quindi ho il 50% dei titolari disponibili ma il campionato è lungo fortunatamente abbiamo incontrato subito Salerno quindi anche una sveglia per le ragazze che devono stare in campo che devono tenere il campo per tutte e 21 ancora le giornate che ci separano dalla fine del campionato ecco ne parlavamo telecamere spente Salerno che con Conversano sono insomma detta un po' di tutti le favorite alla vittoria finale però c'è grande equilibrio almeno questo sembra insomma in fase di presentazione anche maggiore rispetto alla passata stagione ma perché Salerno e Conversano Iomi e Indeco hanno qualcosa in più ancora rispetto alle altre? E se è vero non so se... Allora è vero entrambi le analisi che hai fatto è vero che tutte le squadre si sono rinforzate è vero che il numero è passato da 14 a 12 e anche Flavioni attende un rinforzo stiamo attendendo un rinforzo che sarebbe stato veramente interessante vederlo in campo insieme anche a Alessandra alla quale facciamo sempre gli auguri e avere tutte e due le analisi cioè poche squadre 12 squadre rispetto al 14 dell'altro anno quindi le giocatrici si sono concentrate in queste 12 squadre meglio per il movimento secondo te? Assolutamente sì assolutamente era una manovra diciamo obbligata per quest'anno io l'avrei fatto avrei anticipato di un anno magari non mi sarei salvato lo scorso anno ma effettivamente per il movimento 12 squadre sono giuste ed è vero che Indeco che Conversano e Salerno hanno una marcia in più hanno un roster sicuramente Salerno ha due roster rispetto a un'altra squadra che è magari di metà classifica Conversano ha un roster di tutto rispetto con due o tre cambi importanti e attualmente l'esperienza che hanno queste due formazioni altre formazioni non ce ne hanno proprio anche dal punto di vista dei minuti giocati in Serie 1 delle atlete che compongono altre rose loro sono quelle più esperte trappe le squadre poi hanno anche cambiato guida tecnica no? Ruppez a Salerno Brandi a Conversano cosa è lecito attendersi dalle panchine? ho visto immediatamente un cambio di gioco da parte di Salerno diciamo che c'è il netto tentativo di giocare una palla a mano veloce quindi con rimesse veloci seconda fase organizzata di gruppo una prima fase che spinge sempre e questo era era un po' il il tassello mancante ovvero non che non ci giocassero ma veniva utilizzata come armi in più adesso porre il gioco sulla velocità sarebbe diciamo difficile per chiunque battere Salerno a proposito di chiunque vediamo come è andata in generale in questa prima giornata vediamo subito il quadro completo dei risultati con le vittorie di Salerno di Casagrande Padana dell'Oderzo neomopromossa ma con grandi ambizioni sul campo del Teramo la vittoria dell'Indeco con Bersano sull'Universa Brescia e poi Ariosto Ferrara che al fotofinish si impone a Brescia non è risultato anche sorprendente soprattutto guardando un po' la dinamica lo sviluppo della partita vittoria del Cassano Magnaco sul Dosso Buono 27-20 abbastanza netta i temi di questa prima giornata sono racchiusi nel servizio firmato da Matteo Aldamonte lo vediamo 6 partite 4 vittorie in trasferta e 2 successi di misura sorprese comunque poche per ora ha preso il via sabato il nuovo campionato di Serie 1 femminile che dopo i primi 60 minuti tiene fede ai pronostici almeno per quanto riguarda Salerno e Conversano vittorie larghe per entrambe le campionesse d'Italia contro Flavioni e le pugliesi di coach Giuseppe Brandi sul Brescia quest'ultima formazione ambiziosa ma con identità ancora tutta da forgiare in una ideale corsa ai playoff Foscudetto fa notizia ma non troppo a guardarne l'organico la vittoria della neopromossa Oderzo in casa di Teramo 32 a 25 per i primi e storici due punti delle Venete nella massima serie due successi di misura si diceva sono quelli della Casa al Grande Padana che passa sul 22 a 21 in casa delle Stenze e di un ariosto Ferrara Corsara a Bressanone 23 a 22 rimontando un passivo di 5 reti maturato nel primo tempo sorride infine il Cassano Magnacola squadra lombarda alla meglio su un dossobuono rimandato al primo esame stagionale 27-20 il finale alla Palatacca top scorer di giornata il terzino sinistro del Conversano Laura Rotondo Lazzurra già migliora marcatrice italiana della passata stagione nei fa 12 contro Brescia e guarda già tutti dall'alto nella speciale classifica delle marcatrici non potevamo chiedere niente di meglio sapevamo che il Brescia era una bella squadra che si era oltretutto rinforzata eccetera e quindi ci aspettavamo comunque un bello scontro e questo è stato è stata una partita abbastanza divertente diciamo penso che sia troppo presto per dire se sarà sempre Salerno con Versano ma credo che questo campionato sarà molto movimentato in quanto appunto squadre come il Brescia o anche altre squadre che magari erano salite l'anno scorso dalla 2 alla 1 o quest'anno vogliono dirla loro e si sono comunque rinforzate quindi io penso che è ancora troppo troppo presto per dire come potrebbe andare avanti questo campionato Precisa in campo nelle finalizzazioni precisa anche nella disamina Laura Rotondo sì sempre è veramente una dentro già dentro l'ottica d'allenatrice che campionato dobbiamo aspettarci per quanto riguarda il movimento femminile ma sicuramente è un campionato dinamico nel senso come l'altro anno ci sono stati risultati interessanti magari anche inaspettati stanno anche anche quest'anno secondo me soprattutto a metà stagione vivremo vivremo dei momenti interessanti ecco io io e chi come me punta la salvezza o comunque ad un buon campionato il massimo campionato possibile aspettiamo dei passi falsi sappiamo che ci sono due squadre appunto Salerno e Conversano che sono difficili da raggiungere ma tutte le altre squadre effettivamente chi ha un buco da una parte chi da un altro ci equivaliamo o quasi gran parlare si fa un gran parlare soprattutto dell'Oderzo matricola ambiziosa protagonista anche regina del mercato se vogliamo regina indiscussa rispetto a chiunque ha fatto quello che qualsiasi allenatore avrebbe gradito fosse fatto nella propria squadra hanno preso i giocatori giusti le giocatrici giusti nei ruoli dove mancavano io l'ho vista giocare due volte o terzo effettivamente è una matricola che mette baura non è una matricola dal punto di vista dell'esperienza in campo e vedremo un po' loro hanno puntato forte ai playoff c'è poco da dire e loro Brescia vedremo come andranno avanti sicuramente una squadra forte un roster forte sulla carta vediamo invece come è andata soprattutto come hanno commentato a Bresanone il risultato sorprendente soprattutto per quella che è stata un po' la dinamica lo sviluppo della partita e tecnici di Ariosto Ferrara Britos e Nussig tecnico della Bresanone vediamo abbiamo iniziato molto male sembrava messa molto male la partita loro hanno partito molto forte concentrata molto più di noi e niente abbiamo lavorato fino alla fine ma si è chiuso con l'ultimo rigore veramente sono contento soprattutto per l'atteggiamento una prima partita di campionato prende tre punti qua che è molto duro veramente sono molto contento per me è andata via due volte questa partita una volta dal quindicesimo al venticinquesimo della prima partita abbiamo sbagliato tre rigori e poi gli ultimi 15 minuti finali dove si vedeva che le ragazze avevano troppo rispetto se non dire paura per vincere oggi avevamo sicuramente 15 errori tecnici ma senza attaccare profondamente solo errori di passaggio che io sapevo che avvenivano però non pensavo che influisse così tanto nella partita le interviste raccolte dalla collega Walter Tarto è tempo di tuffarci in Europa con Matteo Aldamonte e con le immagini spettacolari della Champions League femminile Sì Marcello perché è iniziata in questo fine settimana la Champions League femminile appunto hanno vinto tutte le grandi ha vinto di fatto chi era giunto alla Final Four dello scorso anno è iniziato bene il Giorgio Campione in carica c'è stato ovviamente spettacolo nulla da invidiare rispetto ai colleghi uomini una top 5 quella dei top 5 goal appunto di questa settimana davvero spettacolare che andiamo a vedere subito con la clip e con l'aiuto del nostro touch alla posizione numero 5 abbiamo una star della Champions League la giocatrice ungherese Anita Gorbic una delle migliori giocatrici in assoluto a livello mondiale una conclusione un sottomano davvero violentissimo assolutamente imparabile per l'estremo difensore avversario gesto tecnico di livello superiore ma siamo abituati a queste giocate da una atleta del calibro della Gorbic questa è Jaukovic giocatrice giovanissima classe 96 già una Final Four alle spalle giocatrice del Voodoo che abbiamo visto all'opera anche contro l'Italia con la maglia appunto della sua nazionale del Montenegro Natalie Hagman una virgola pazzesca questi sono i gesti tecnici davvero che fanno impazzire il pubblico andiamolo a rivedere ancora in questo replay effetto dato al pallone davvero da applausi chapeau stessa giocata per quanto riguarda invece Angela Malestein giocatrice olandese della nazionale olandese che ormai ha i vertici europei un gol anche questo sicuramente di grande spettacolarità e poi in conclusione il mio preferito pazzesca questa giocata con Cristina Neagu che deve solo finalizzare ma il gesto tecnico del centrale a mio avviso il passaggio è una volée davvero da applausi davvero da applausi rivediamola ancora grande gol assolutamente grazie grazie Matteo ecco quanto fa bene al nostro movimento vedere anche immagini di questo tipo fa benissimo io esorto i colleghi a portare immagini di questo tipo fare filmati fare sintesi di partite da far vedere le ragazze soprattutto le giovani ragazze perché effettivamente sono quelle che vedono pochissimo a pallone a mano quindi in Italia abbiamo veramente poco spazio per questo sport soprattutto femminile e vedere una partita o una sintesi sarebbe più di un allenamento secondo me questa è una cosa che io spesso faccio esorto ai compagni e ai colleghi sotto questo aspetto abbiamo una chicca no Matteo perché presto insomma con Pallamano TV riusciremo a offrire le immagini più spettacolari della Champions League maschile ma sempre di Pallamano di alto livello trattasi assolutamente sì è una grande opportunità che la federazione italiana gioca in ball vuole dare ai suoi appassionati e quindi racconteremo appunto lo spettacolo della Champions League non diciamo nulla di più perché insomma poi sveleremo nei dettagli tutto il palinsesto ma sicuramente credo che sarà molto molto interessante insomma da parte di tutti gli appassionati da tutto il movimento seguire le partite più importanti della Champions League maschile ora ci fermiamo lo spazio di un brevissimo spot e poi ritorniamo di nuovo in studio con Patrizio Pacifero Tickets to the NextGen ATP Finals are on sale now Tickets are on sale now Don't miss your chance to get tickets Are you ready Milano? Are you ready Milano? Hope to see you in Milano Hope to see you in Milano Visit NextGenATPFinals.com Get your tickets at NextGenATPFinals.com Arrivederci a Milano Dalla settore femminile al settore maschile fermi i gironi del massimo campionato ne approfittiamo per fare il punto cominciando dal basso dal girone migliorale dal girone C vediamo E' una storia appena agli inizi ancora tutta da scrivere quella del girone C della Serie A1 maschile la parola d'ordine è prudenza per chi da Fasano a Siracusa passando per Conversano e tirando in ballo anche Fondi non vuole lasciarsi andare a pronostici previsioni presagi ma sentirsi liberi di ipotizzare come andrà nella corsa ai playoff scudetto in questo raggruppamento è esercizio che appassiona già dall'estate appena trascorsa animata da un mercato a dir poco scoppiettante all'orizzonte ora c'è la quarta giornata stagionale il programma di sabato è per palati raffinati Conversano Albatro e Fondi Fasano nello stesso pomeriggio dalla prima alla quarta posizione della classifica una contro l'altra il si pare o si alza la prudenza dovrà inevitabilmente venire meno per lasciare posto a spregiudicatezza determinazione voglia di vincere in cuor loro lo sanno bene Francesco Ancona e Alessandro Tarafino tecnici delle due pugliesi Fasano e Conversano Sì diciamo sulla carta queste tre squadre sembrerebbe avere qualcosa in più non è detto però che ci siano anche altre formazioni attrezzate per sicuramente dar fastidio io ho dato un'occhiata un po' anche alle altre partite ho visto tipo il Valentino Ferrara e il Noci sono due formazioni anche temibili secondo me perché bisogna affrontarle con il giusto carattere come ci aspettavamo è un girone molto più combattuto rispetto alla passata stagione abbiamo avuto una partita contro Ragusa con tutto il rispetto per loro però penso che sia appunto la neopromossa vogliono fare questa esperienza nel massimo campionato però credo che siano la squadra forse più debole del girone però per quanto riguarda tutte le altre bisognerà lottare ogni partita e non si può non si può sottovalutare niente perché saranno tutte partite combattute faccio un salto al 21 ottobre prossimo finale di Supercoppa contro Bolzano è ancora la partita del campionato italiano senza dubbio è sicuramente il nostro primo obiettivo stagionale come sì come il loro ci stiamo preparando al meglio per quella partita ora sabato abbiamo dopo la pausa abbiamo una partita importante a fondi che oltre ad essere importante ai fini del girone è anche un test importantissimo prima della Supercoppa quindi ci prepariamo questa settimana affrontiamo questa partita e poi testa alla Supercoppa di Bolzano conversano ambizioso il conversano di Tarafino non soltanto nel girone C ma credo che anche in una prospettiva a girone unico io ho seguito il lavoro di Alessandro Tarafino l'ho seguito dall'inizio quindi da 4 anni fa veramente a parte i complimenti che faccio a lui come tecnico perché uscire dal mondo dell'essere giocatore e diventare tecnico subito il giorno dopo è veramente difficile lui ha fatto questo passo ma è una squadra veramente che gioca a palla a mano gioca a palla a mano con i conversanesi aiutati dai rinforzi esterni questo è è l'arma secondo me che hanno Fasano e Conversano Fasano ancora qualcosa in più rispetto a Conversano volendo chiaramente delimitare il nostro agio d'azione al girone C certo io non l'ingresso di Venturi ha ulteriormente allora se parliamo di roster è vero che è entrato Venturi di qua è entrato Sperti insomma c'è una differenza sostanziale nei ruoli ma non nelle finalizzazioni quindi secondo me hanno guadagnato entrambe le formazioni non mi saprei esprimere ma non mi saprei esprimere nemmeno pensando a una crescita del Fondi che potrebbe durare 8-9-10 giornate quello che volevo appunto domandarti il Fondi è il terzo incomodo o vedi ancora Siracusa insomma un ladino no Siracusa è una realtà ormai dove bisogna andarsi a scontrare contro Siracusa a Siracusa è difficilissimo per tutti io vedo nel Fondi una quarta una quarta squadra oltre queste tre nel girone Sud ma veramente una squadra cioè qui parliamo di quattro squadre cioè Siracusa Fondi Fasano che potrebbero tutti e quattro entrare nel girone unico io penso di sì a guardare i roster a guardare come le società intendono la palla a mano come intendono lo sviluppo quindi chi hanno preso chi hanno tenuto queste sono quattro squadre e sono quattro squadre da girone unico vediamo il prossimo turno del girone C della massimo campionato si riparte con la situazione di classifica che vedete alla sinistra dei vostri teleschermi prossimo turno Benevento Gaeta Conversano Siracusa già test importante per il Siracusa sul campo del Conversano Fondi Fasano e Cresirio Sia Noci questo è il quadro completo andiamo direttamente dal girone C al girone A e facciamo anche in questo caso il punto sullo stato dell'arte turno di pausa alle spalle torna sabato prossimo il campionato di serie A1 maschile girone A in questo fine settimana vuol dire una partita su tutte Bressanone Bolzano derby d'Alto Adige e partita che si porta addosso il profumo del primato la squadra di Fusina guarda al momento tutti dall'alto è vero ma il divaro sull'inseguitrice è minimo un punto appena per tenere lontane il Cassano Magnago e proprio i cugini di Bressanone che nei 60 minuti di sabato nella bolgia del palasporto brissinese proveranno a tendere la trappola fatale a Turcovic e compagni ci crediamo non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto quelle partite forse più facile del campionato e col Bolzano adesso ci ci vuole tanto per vincere ma noi combattiamo sempre e vediamo che cosa si può fare Diretta su Palamano TV da Bressanone alle 19 ma occhio anche alle rinnovate ambizioni di Merano e Pressano entrambe piazzate a ridosso delle prime tre posizioni e avversare l'una di Malo l'altra di Molteno tradizione storia e fascino si fondono al Palatac il Cassano Magnago di Coletz riceve il Trieste mentre Appiano sarà opposta al Mezzocorona Bene Brixen Bolzano sicuramente partita di cartello grande tradizione grande rivalità insomma grandissima rivalità questa è veramente il derby d'Italia della rivalità poi logicamente amici tanti ma c'è una bella rivalità un bel clima è sempre bello vedere quella partita ecco mentre prima dicevamo Commersano e Fasano hanno ancora qualcosa in più rispetto a tutte le altre del proprio girone ti chiedo il Bolzano ha ancora qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre italiane è una bella domanda impegnativa sì Bolzano adesso ha ancora tanta esperienza tante energie fresche di esperienza non devo da fare nomi perché veramente i tre terzini i tre terzini di Bolzano sono veramente impegnativi da marcare da difendere e il grosso il grosso problema delle squadre avversarie di Bolzano non è proprio quello come difendere su Bolzano a proposito dei tre terzini credi che questo possa essere l'anno della definitiva consegrazione per Moretti che è un giovane su quale l'Italia punta tanto secondo me Moretti potrebbe fare lo stesso cammino che ha fatto Bolzamini nel senso potrebbe già andare fuori Moretti è veramente un giocatore interessante poi io l'ho studiato l'ho apprezzato l'ultimo anno perché ho voluto proprio un po' approfondire lui Stabellini questi ragazzi un po' giovani ma lui veramente è impressionante penso sarà l'uomo in più del Bolzano tra poco daremo uno sguardo al prossimo turno del Girone A però intanto a proposito di Moretti e di Bolzamini credo che Matteo Aldamonte abbia qualche news da darci in particolare su Davide Bolzamini perché fa parte della nutrita schiera di ragazzi italiani che giocano nei campionati esteri una schiera di giocatori che si è arricchita ulteriormente quest'anno andiamo subito a vedere perché abbiamo belle notizie a partire dalla Pro League dove il Saint-Marcel ha pareggiato 25 a 25 è la squadra di Pablo Marrochi per il quale abbiamo una notizia particolarmente lieta il centrale della Nazionale che è tornato con la Nazionale è stato inserito tra i migliori sette giocatori come appunto miglior centrale della settimana vittoria 35 a 34 dell'Angelo Jan invece per la squadra di Andrea Parisini che lotta per la promozione nella seconda lega francese 10 reti per il nostro pivot ha vinto anche Angela Cappellaro in Norvegia il pivot della Nazionale Femminile con lo Scrim Kosberg della quale abbiamo scelto un video di festa della vittoria appunto in campionato che va a caccia della promozione nella massima serie norvegese dopo averla sfiorata lo scorso anno massima serie assaggiata quest'anno con 9 reti in 5 partite dal centrale Irene Fantor che vediamo in questa immagine direttamente dal profilo Instagram del Classver che è la sua formazione lotta per la salvezza da qui ci trasferiamo velocemente alla nazionale italiana perché sono freschissime le convocazioni di coach Riccardo Trilini direttore tecnico delle squadre nazionali per lo stage andiamo a vedere con l'aiuto della grafica attraverso il nostro sito il sito della FIGIH www.figh.it quelle che sono le convocazioni per uno stage a Malaga dove l'Italia giocherà a fine mese due amichevoli contro squadre di prima e seconda Lega squadra finalmente direi al completo per coach Riccardo Trilini che approfittando della settimana internazionale ritrova anche giocatori appunto che arrivano dall'estero come Bulzamini Scatar Marrochi e Luciano che si aggiungeranno a quelli che hanno ben figurato già nel raduno a Zerace la settimana scorsa tanto lavoro a te Riccardo Trilini tu lo conosci benissimo certamente non è uno che si spaventa anzi si preoccupa quando c'è poco da lavorare bravo più che si preoccupa è proprio un problema per lui quando si lavora poco Riccardo è la scelta giusta conosce bene il movimento italiano conosce bene i giocatori italiani ha una grande passione vuole fare il risultato come ha sempre fatto in carriera che nazionale è questa che sta prendendo corpo? questa è una squadra forte cioè questa è una nazionale veramente la migliore degli ultimi anni secondo te? ci sono stati se parliamo agli ultimi 4-5 anni sì ci sono state ci sono state nazionali simili a questa ma questa sicuramente è una delle migliori è in mano a uno staff competente hanno tanto tempo per lavorare e io penso che in questo quadriennio con la maschile soprattutto mi pare che abbiamo avuto dalla federazione proprio la possibilità di insomma sono stati incentivati nel lavoro senza dubbio quindi non abbiamo non abbiamo l'alibi del ci vediamo solo 3 giorni al mese ecco no qui c'è un bel programma fatto bene so che gli allenamenti sono tenuti veramente con già con un senso pratico poi arriva il risultato e secondo me in questi 4 anni con la maschile qualche soddisfazione in più rispetto agli ultimi tempi ce lo toglieremo dobbiamo andare proprio in grandissima rapidità in una seconda fase proprio spinta al massimo coach pacifico perché vediamo il prossimo turno del girone A per completare il quadro si parte da questa posizione di classifica con il Bolzano in testa con 6 punti prossimo turno con Eppan Mezzocorona Brixen Bolzano che è appunto la diretta di Palamano TV poi Merano Malo Pressano Molteno e Cassano Magnaco Trieste in conclusione uno sguardo anche al girone B che poi tratteremo ulteriormente maggiormente nello specifico nel prossimo turno di Handball Mania nel prossimo appuntamento di Handball Mania questo è il quadro completo classifica che vede Bologna e Cologna in testa con 5 punti nessuna a punteggio pieno soltanto il Bolzano nel girone A e Fasano con Comersano che ha una partita in meno nel girone C Cingoli Modena Lions Teramo Carpi Romagna Bologna United Padova Tavernelle Bologna e Cologna credi che possano fare veramente cammino a sé in questo girone? Io ho visto giocare il Teramo e il Teramo è una squadra di matti come diremo dalle nostre parti quindi potrebbe fare risultato su qualsiasi campo e non penso che Fondi si lascia sfuggire qualche occasione che Fondi si lascia sfuggire qualche occasione di fare risultato su qualche campo importante squadra di grande esperienza no? Sì ma tanti giovani vedremo 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 sicuramente Cologna si sta dimostrando squadra di un altro di un altro campionato vedremo insomma vedremo qui in questo in questo girone forse c'è un po' più di equilibrio non c'è non c'è la super squadra e non ci sono nemmeno i cuscinetti quindi sarà un bel girone dai risultati stretti assolutamente sì poi come dicevamo in precedenza avremo modo di approfondire le tematiche del GnB proprio nel prossimo appuntamento con Handball Mania il tempo a nostra disposizione è clamorosamente scaduto io ringrazio grazie a voi per la chiamata grazie mille bocca al lupo al Flavioni Matteo Aldamonte grazie dobbiamo soltanto ricordare l'appuntamento con Parlamento assolutamente sì ore 19 sabato il derby d'Alto Adige tra Bressanone e Bolzano noi invece ci ritroviamo mercoledì prossimo sempre alla stessa ora 19.30 Sport Italia intanto buon contagio a tutti a rivederci un gol pazzesco